Lei è Giorgia, la moglie di Marco. Lei è Luisa? Luisa... quella Luisa. Quella Luisa, sì. Piacere di conoscerti. Luisa Licante. Meglio che ci sia anche tu perché ho scoperto un bel po' di cose. Purtroppo non ho buone notizie. Manfredi aveva circa 570.000 euro di debiti. E cosa? Bingo! Cosa? Sì, 200.000 in una banca, 190 in un'altra e 180 in un'altra ancora con sede distaccata in lusso. E' un basso, criminale. Oh, l'ha fatta apposta. L'ha fatta apposta, ma sì, certo. Ragazzi, scusatemi ragazzi, una soluzione legalmente c'è. Voi potete rinunciare all'eredità. Che vuol dire rinunciare all'eredità? Se i debiti sono troppi, rinunciando non passano a voi. Ovviamente non passano a voi neanche gli eventuali benefici, però vi sembra evidente che non ci sono. Non rinunciare. Un momento molto difficile. Mi dispiace un malincuore. Rinuncio. Ma è ovvio rinunciare, no? Anche rinunciare. Bene, dai, allora domani si parte, ok? Bene? No, dovete comunque incontrare il notaio e lui vi può ricevere sabato, quindi bisogna restare. Bravi, bravi. Cioè, voi rinunciate alle eredità di papà così su due piedi. Siete veramente degli insensibili di merda. Ah, noi? Sì, voi, sì. Ma senti che parla. Sì, sì. Ma non è una questione di sensibilità. È che tu c'hai soldi e noi no. A parte il fatto che non c'è una lira. Poi comunque io mi faccio un culo così. Ma tu ti fai un culo così perché noi no. Perché solo te. Sì, non ho capito. Il problema è che 600.000 euro per un alleamento di perle che tra l'altro non produce perle è troppo. Ma non lo capisci, Marco? Sì, sì, capisco, capisco. Capisco che come al solito quando c'è da fare qualcosa di coraggioso tu te dai. Ma veramente? Veramente, sì. Ma è uno scherzo? No, sono serio.